Buon day! Io sono barbuto ma non ho la barba Benvenuti in questo nuovo video Quello di oggi è un video molto 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 serio Spiego subito da cosa è stato scaturito e perché ho deciso di farlo Praticamente ieri, soprattutto ieri e oggi sono stato insultato, tantissimo insultato, minacciato L'ho ricevuto un sacco di commenti negativi Soprattutto sotto la foto e quando ho annunciato le felpe nuove Quelle che sono qui, belle pelose, con i disegni anche dietro Trovate il link in descrizione Le felpe nuove pettacolo, bellissime E ovviamente non per le felpe Ora vi spiego Nel video di ieri e nella foto avevo lo smalto alle unghie Che ora non ho più Lo avrò anche in un altro video che uscirà, che ho registrato ieri Ma che ho programmato per questi giorni Perché in realtà questo video non doveva uscire oggi Ma dovevano uscirne altre perché io li ho programmati facendo uno al giorno Infatti sto registrando a mezzanotte e 06 di venerdì 20 dicembre Cioè oggi che uscirà questo video Ho sentito particolarmente l'esigenza di registrare questo video Non perché sono stato attaccato Attenzione, non voglio fare video perché voglio fare la vittima O ci sono stato male, mi sono sentito ferito, ho passato un brutto momento Non sono il tipo che se la prende per queste cose Non sono il tipo che se la prende per i commenti negativi Non sono il tipo che se la prende per gli insulti Perché sono uno youtuber, sono un influencer I commenti negativi ed insulti ne ho ricevuti a bizzeffe E sinceramente non do tanto peso ai commenti magari di persone Che mi insultano così anche senza conoscermi tanto per farlo Quindi vi spiego perché ho deciso di fare questo video Dato che non ci sto male Dato che la cosa non mi ha toccato personalmente Uno, perché vedo tanta ignoranza Davvero davvero troppa troppa ignoranza da parte delle persone Non ho tolto lo smalto alle unghie per i commenti negativi L'ho tolto semplicemente perché avevo messo lo smalto alle unghie Visto che è stata la domanda più fatta sotto il video di ieri Senza commentare il contenuto Ma semplicemente tutti commentavano le mie unghie che erano colorate L'ho tolto, ho tolto lo smalto semplicemente perché L'avevo messo per fare delle foto, delle foto particolari Volevo dare quello stile stilistico a quelle foto Quindi mettermi lo smalto per fare qualcosa di diverso E non per tutte le ragioni che avete scritto voi Mi avete detto cosa mi sono persa Sei un fruccio di merda Sei gay Perché cazzo ti metti lo smalto alle unghie Togliti quella merda o ti smetto di seguire Muori I maschi non mettono lo smalto sulle unghie Ho perso 500 follower su Instagram Dopo che ho pubblicato la foto con lo smalto Cosa che non mi interessa sinceramente Perché se qualcuno mi segue perché ho lo smalto no Tanto vale che non mi segue Cioè è una cosa che non mi interessa Però ora mi sono dilungato Quello che voglio dire è che appunto vedo tanta ignoranza Il fatto che una persona decida di mettersi o no lo smalto Non sta a significare che è gay o no E anche se fosse non vedo quale sia il problema Seconda cosa non c'è niente di male Se uno c'è le unghie colorate C'è T'ho fatto un torto? Perché mi dovrei vergognare se ho dello smalto sulle unghie? Non rubo Non ho stuprato nessuna ragazza Non ho fatto violenza su nessuno Non ho insultato nessuno Non ho fatto nessuna cattiveria Avevo delle unghie colorate Solo perché una persona fa qualcosa di diverso dagli altri Non bisogna insultarla, denigrarla Perché cos'è la diversità? Noi siamo abituati a uno standard Siamo abituati che le ragazze mettono lo smalto Quindi se lo mette un ragazzo Oddio Lui è diverso Vi dirò una cosa Non è pauroso essere diverso dagli altri È pauroso essere uguale a tutti gli altri Io ho paura quando faccio una cosa e vedo che la fanno tutti Ho paura quando indosso un paio di scarpe e la mettono già tutti Ho paura di essere uguale agli altri Io voglio essere diverso Perché se no non sarei neanche a fare i video su youtube A fare tutte queste cose Il messaggio che voglio far passare è Che non mi interessa se sono stato insultato io Ma vedo che c'è tanta ignoranza Quindi magari io non me la prendo Ma magari questo video non serve a nulla Però magari serve a far cambiare idea a qualche persona A qualche persona che mi ha insultato Magari io non ci sto male Però se un altro ragazzo vuole mettersi lo smalto alle unghie Non lo fa Perché viene insultato dagli altri Quello non è giusto Quello non è giusto Non è giusto insultare una persona solo perché si comporta in modo diverso Solo perché non è uguale a tutti gli altri Non è uguale alla massa Ovviamente io ho preso l'esempio dello smalto Perché è quello che è successo a me Però io intendo fare questo discorso su tutto Come una ragazza non si deve vergognare a mettersi una felpa da uomo Se gli piacciono le felpe da uomo Come una ragazza non si deve vergognare a fare qualsiasi cosa Che magari gli altri non fanno Come un ragazzo non deve vergognarsi a fare qualsiasi altra cosa Che gli altri non fanno Ognuno di noi è diverso da qualcun altro Solo che tante volte ce lo teniamo dentro Tante volte abbiamo paura di mostrare noi stessi per essere uguali agli altri No è sbagliato Seate voi stessi fregatevene di tutto quello che dice la gente Io conosco persone Vedo persone che ci stanno malissimo magari per i commenti che gli fanno Io non gli do peso perché sono abituato Ma perché quando ero piccolo ne ho passati di peggio Quindi ho un'armatura Ho costruito un'armatura Però magari tante persone che magari mi seguono Che mi guardano Non hanno la forza di essere loro stessi Ma si mischiano con gli altri per essere accettati Non va bene Io sono sicuro che tutti Tutti voi che mi state guardando Almeno una volta siete stati presi in giro Perché facevate qualcosa di diverso Riassunto quello che voglio dire è che Non bisogna vergognarsi di essere diversi Ma la diversità è frutto della nostra creatività Quello che ci rende unici Magari non rendo tanto l'idea di quello che sto dicendo Quindi voglio farvi degli esempi pratici Di quello che mi è successo Allora praticamente Mi sono successi due episodi Che mi hanno fatto capire di dover fare questo video Perché comunque sono seguito tante persone E è giusto che io dica qualcosa Non faccia finta di niente Il primo esempio è che ieri Io stavo andando a scattare le foto con Matteo Perché lui mi scattava le foto Abbiamo comprato uno smalto a supermercato Me l'ha messo lui tra l'altro L'abbiamo messo malissimo Le prime foto che stavo facendo Le ho fatte in un garage Di un centro commerciale grandissimo Perché c'è questo garage lunghissimo Con le luci sopra Che mi piaceva un sacco per le foto Magari ve ne faccio apparire una qui Arrivano una coppia di adulti Uomo e donna Ci vedono a fare le foto E la donna è interessata Tipo ah cosa state facendo State facendo delle foto Ha arrivato il marito E anche lui Ah state scattando delle foto Poi mi guarda le dita E vedi che avevo dello smalto Mi ha guardato malissimo raga Mi ha guardato malissimo Cambia subito espressione Mi dice Vedete di non fare foto vicino alla mia macchina Prima che vi spacco la macchina fotografica Vedete di andare lontano da qui Ragazzi era capito benissimo Che fosse Perché aveva visto lo smalto sulle unghie Perché Prima era gentile Aveva chiesto cosa stessimo facendo Poi mi ha guardato le dita Mi ha guardato in faccia Ha fatto una faccia bruttissima Poi ho iniziato a dirmi tutte queste cose Io ovviamente ho fatto finta di niente Perché sinceramente non mi frega un cazzo Della frustrazione delle altre persone E poi ovviamente Se andate a vedere il video di ieri Un sacco di commenti Erano Levati quel cazzo Fai proprio schifo Non ti seguo più Blah 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 Poi tipo Me ne leggo altri Ma cosa sei? Sei gay? Io non ti seguo molto E ho visto che hai messo lo smalto Cosa mi sono perso? Cosa hai sulle unghie? Levati lo smalto Sei una merda Con tutte le faccine che vomitano Sei brutto con quello smalto Fai schifo Ma sei gay Allo smalto di qua di là Che per me non è un'offesa questa Cioè le offese sono altre Vabbè poi Dormande normalissime Queste qua sono quelle che ho fatto gli screen Perché poi ce ne sono tantissimi Quindi questo qua era semplicemente Un video sfogo Dove volevo parlare di questo argomento Dove volevo dirvi questa cosa So che non è un video super divertente No, non è un video divertente Spero che sia un video positivo Dove cerco di trasmettervi un bel messaggio Volevo farvi entrare di più nella mia vita Durante questi video giornalieri Volevo raccontarmi giorno per giorno Cosa mi succedesse E oggi mi è successo questo Quindi ho deciso di raccontarvelo Non cerco compassione Non cerco approvazioni da parte vostra Non voglio che mi iscriviate Mi dispiace Giuse Semplicemente Se vedete comportamenti di questo genere Fatti da qualche altra persona Ditegli qualcosa Se siete voi stessi Ad avere questo tipo di atteggiamento Cercate di avere la mente più aperta Niente Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Perché ogni giorno È un nuovo video Perché io sono barbuto Ma non ho la barba E domani ovviamente Ci aspetta un video divertente Come quelli che faccio di solito Ehi Ho la barba E domani ovviamente